Schiaffi, botte e persino alimenti scaduti a bambini dai 2 ai 5 anni. Si è consumato a Cariati l'ennesimo caso di violenza sui minori che fa scattare l'arresto per due mestre di un asilo privato, la titolare di 35 anni ed un'altra donna di 54 anni senza abilitazione né assunzione. In poche settimane le indagini dei carabinieri, partite da alcune segnalazioni anonime, hanno permesso di accertare, anche attraverso l'ausilio di telecamere, i maltrattamenti cui erano sottoposti i bambini. Le immagini hanno evidenziato come i minori fossero sistematicamente vessati, picchiati, trascinati a terra, colpiti alla testa e addirittura calpestati dalla furia insensata delle due donne poste ora agli arresti domiciliari. I carabinieri inoltre hanno ritrovato latte ed altri alimenti scaduti utilizzati per la mensa. Le indagini sono partite come capita perché qualche genitore, in forma anche anonima riservata, ha ritenuto di segnalare in qualche modo comportamenti anomali, riferiti soprattutto ai bambini che ripetevano, emulavano quello che subivano con i giocattoli, con gli orsacchiotti, con i loro giochi abituali a casa. La cosa forse più toccante è vedere i bambini così terrorizzati che quando vedono arrivare una delle due persone arrestate, soltanto basta vederle che si avvicinano verso di loro, già assumono atteggiamenti di difesa. Quindi vuol dire che le botte le prendevano sistematicamente ed erano terrorizzati. Quindi una vera condizione di assoggettamento e di induzione, proprio nei confronti di questi bambini in tenerissima età, cioè questi sono bambini che rischiano anche di avere delle ripercussioni sul piano proprio della crescita, dello sviluppo mentale. Atteggiamenti, salire sulla gamba di un bambino di tre anni e rimanere in sospensione proprio a fare male, questi sono atteggiamenti che non possono essere né tollerati, non si parla di giustificazione, ma non possono essere tollerati in alcun modo. Il legislatore deve assumere una posizione seria, dura, durissima nei confronti di queste strutture. Vanno controllate, vanno gestite in un certo modo. Non è possibile più assistere a queste situazioni. Grazie. Grazie.